eravamo dicendo eravamo arrivati più o meno qua fatti toccare il pipino si vergogna si vergogna è un alcolizzato perché non l'ho friviato mamma io posso per ora faccio finta che sono a stimmio le sigarette non esistono la voglia di fumare non esiste se non esiste la sigaretta se non esiste la sigaretta non esisto io esatto neanche io esisto siamo in matrix in realtà non esistono le bionde a meno che non parli di birra è il whisky che costa meno da litro cioè il rumbo che costa meno da litro però mi è riscaldato tutto qua ora sento caldo è perché sono 40 gradi dai lo faccio al culetto dai domani inquadra la nebbia chiediti il perché della nebbia la nebbia non esiste in realtà sono nuvole basse questa è forse l'unica cosa sensata che ho detto quando vuoi sparare una minchiata mi dice una cosa sensata che brutto è una brutta sensazione se lo coltiviamo un terreno proprio qua che vuoi coltivare? i babbaluci i zucchini secondo me con i babbaluci poi li vendi ai francesi eeeh 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 no no zucchini e poi che sono buoni e poi le vendi a quelle che guardano le banane no le banane qui non lo so se crescono bene qualche banane amore a loro vai te la dissi cuore vai te la do e dopo questa buona buona buon Natale notte